seconda edizione di cilento experience un territorio da vivere musica cultura turismo in una terra ricca di storia il 27 giugno in piazza del popolo a policastro bussentino giusi ferreri in concerto il 29 giugno in piazza del popolo sempre a policastro bussentino il concerto di lucchè seconda edizione di cilento experience un territorio da vivere il 27 29 giugno santa marina nella frazione di policastro bussentino in provincia di salerno cilento experience è finanziato dalla regione campania valere sulle risorse del programma operativo complementare poc 2014 2020 grazie a tutti